Buongiorno ragazzi, in questo video andiamo a svolgere un esercizio sulla continuità delle funzioni. In particolare, dobbiamo stabilire per quali parametri reali a e b questa funzione che vediamo essere definita a tratti è continua. In particolare, f di x vale 6x quadro più 2bx più a quando la x è minore o uguale di meno 1. Vale 5x quadro meno x meno 1 quando la x è compresa fra meno 1 e 0 e infine quando la x è maggiore o uguale di 0 abbiamo come valore della funzione x alla 5 più 3x alla 4 meno 3b più a tutto fratto 7x più 1. Cosa significa una definizione di funzione a tratti? Vedete, finché la x è più piccola di meno 1, meno 1 compreso, dobbiamo sempre andare ad associare questo valore. Quindi in tutta questa zona la funzione sarà definita come 6x quadro più 2bx più a. Quando ci troviamo in questo intervallo associamo il valore scritto 5x quadro meno x meno 1 e infine dallo 0 al poi dobbiamo andare a considerare questa frazione. Osserviamo che il dominio della funzione sono tutti numeri reali. Infatti queste prime due definizioni sono semplicemente dei polinomi di secondo grado, quindi sempre definiti. Quando andiamo a considerare questa frazione vediamo che il denominatore è un 7x più 1 che è uguale a 0 solo in x uguale a meno 1 settimo. Ma x uguale a meno 1 settimo sarebbe un valore che ritroviamo in un segmento differente da quello in cui dobbiamo considerare la frazione. Quindi il dominio della funzione sono tutti numeri reali. Andiamo a studiare la continuità. Chiaramente dobbiamo andare a concentrarci sui punti meno 1 e 0, che vedete sono proprio quei due punti in cui c'è il passaggio, il cambiamento di definizione della funzione. E quindi quando andiamo a considerare la continuità in x uguale a meno 1 vado ad applicare la definizione di continuità scritta in questo modo. Quindi vedete il limite per x che tende a meno 1 da meno della funzione deve essere uguale al limite per x che tende a meno 1 da più della funzione e questi valori devono essere i valori della funzione meno 1, quindi f di meno 1. In maniera del tutto analoga applico anche la definizione di continuità nello 0, quindi il limite a 0 meno della funzione deve essere uguale al limite di 0 più della funzione e questi limiti devono essere uguali a f valutata in 0. Cerchiamo quindi di andare a impostare in maniera corretta questo sistema. partiamo dalla prima continuità in meno 1. Quando svolgo il limite per meno 1 o meno chiaramente mi devo muovere in questa zona e quindi andrò a considerare come definizione di f di x il 6x quadro più 2bx più a. Viceversa quando vado a svolgere il limite per x che va a meno 1 o più ovviamente mi sto ritrovando, vedete, in questa zona, quindi con valori più grandi di meno 1 proprio per il verso del limite e quindi utilizzerò come definizione della funzione 5x quadro meno x meno 1. Nel momento in cui invece vado a valutare f di meno 1 mi ricordo che il meno 1 fa parte di questo segmento, di questa semiretta e quindi utilizzerò questa definizione, il 6x quadro più 2bx più a, per determinare il valore di f di meno 1. Sostituendo quindi le definizioni della funzione in questo modo, ritroviamo questa catena di limiti. In maniera del tutto analoga vado a fare il ragionamento per il limite che va a 0 meno e a 0 più. Quando faccio il limite per x che va a 0 meno mi ritrovo in questa zona e quindi utilizzerò 5x quadro meno x meno 1. Quando faccio il limite a 0 più mi ritroverò ovviamente da questa parte, quindi con delle x positive e utilizzerò la frazione come definizione della funzione. Anche per la valutazione di f di 0 andrò a utilizzare la frazione, infatti lo 0 fa parte di questa semiretta. Sostituisco tutto e trovo questa seconda riga di uguaglianze fra limiti. Questo è proprio il sistema che devo andare a risolvere. Ora osserviamo che il valore della funzione ad esempio in meno 1, questo 6 meno 2b più a, è proprio il risultato di questo limite. Infatti quando faccio x che tende a meno 1 meno mi sto avvicinando la funzione in questa zona e il meno 1 è un punto compreso in questa semiretta. Essendo questo semplicemente un polinomio, quindi essendo una funzione continua, il risultato di questo limite sinistro deve per forza essere il valore della funzione valutato in meno 1. In maniera analoga, quando vado a svolgere questi due limiti, mi accorgo subito che il limite a 0 più corrisponde esattamente al valore della funzione in 0. Infatti questa è una funzione continua, è il rapporto di due polinomi che sono continui e quando tendo a 0 ovviamente ritrovo esattamente questo meno 3b più a, quando tendo a 0 più. Quindi per risolvere questo sistema considero già che questo limite è uguale a questo valore e che questo limite a 0 più sarà uguale a questo valore. Quindi impostiamo l'ultimo limite svolgendo x che tende a meno 1 più 5x quadro meno x meno 1. Vedete che mi viene banalmente un 5, quindi 5 per più 1 meno 1 e quindi ritrovo questo 5 uguale a 6 meno 2b più a, il valore che avevamo calcolato precedentemente. E in maniera analoga quando faccio il limite a 0 meno meno 5x quadro meno x meno 1, questo mi darà come risultato del limite a un meno 1. Questo meno 1 lo vado a porre uguale a meno 3b più a. Quindi globalmente per risolvere l'esercizio devo risolvere questo sistema. Vediamo come. Semplicemente vado a farlo per sostituzione. In questo caso è molto facile isolare la a, quindi prendo questo 6 meno 2b, lo porto dall'altra, ottengo che a deve essere meno 1 più 2b, lo sostituisco nella seconda equazione ottenendo questo. Osserviamo che il meno 1 si semplifica e quindi ritroverò uno 0 uguale a meno 3b più 2b. Quindi b deve essere 0, riprendo questo 0 e lo sostituisco sopra trovando a uguale a meno 1. E questi sono proprio i parametri richiesti come risoluzione dell'esercizio. Spero che questo video sia stato chiaro e vi abbia fatto capire come andare a studiare la continuità di queste funzioni parametriche. Continuate a seguire gli esercizi su questo canale YouTube e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Grazie.